Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni e i Viola di Emiliano Bigica affrontano i nerazzurri di Stefano Vecchi con l'intenzione di prendersi una rivincita dopo la sconfitta subita l'11 giugno scorso nella finale Scudetto. Da allora sono cambiate molte cose, a partire dalla formula del campionato primavera molto impegnativo fin dall'inizio. Nella Fiorentina Nuovo l'allenatore con Bigica, che ha preso il posto di Federico Guidi adesso tecnico dell'Italia Under 20. Una squadra viola rinnovata che ha finora ottenuto quattro vittorie e una sola sconfitta, sul campo del Verona. Nerazzurri sotto di due punti ai Viola in classifica ma reduci dal passaggio del turno nella Jotli grazie alla vittoria a Chievo contro la Dinamo. Dal punto di vista motivazionale queste sono le partite più semplici da preparare, ha dichiarato a Viola Cannel Bigica, contro una squadra forte, e di grandi valori tecnico, tattici come i campioni di Italia.